Sono 10.000 i siti industriali europei repertoriati secondo l'aggiornamento 2015 della direttiva Seveso, diventata Seveso 3, ovvero l'aggiornamento della norma che riguarda gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, quindi contenenti sostanze pericolose. Nel 1976 un'esplosione fece saltare la valvola di sicurezza del reattore chimico dell'ICMESA, fabbrica ubicata a Seveso in Brianza. La diossina che ne uscì in tossicò gli operai dello stabilimento e 37.000 abitanti locali, con rigadute genetiche che si sarebbero percepite per anni. La maggior parte delle fabbriche europee a rischio perché catalogate Seveso sono ubicate nei bacini industriali e sono molte quelle che si trovano sui due lati della manica. Gli stabilimenti industriali che manipolano sostanze chimiche pericolose rappresentano un rischio per la popolazione e l'ambiente, esattamente quanto corso adesso a Rouen, dove la popolazione continua ad essere molto preoccupata per le conseguenze sulla salute. I rischi sanitari sono legati sia alla tossicità delle sostanze che alla loro effettiva quantità rilasciata nell'ambiente.